ciao a tutti oggi prepariamo la seppia con i piselli un grande classico sempre buonissimo quando vedo in pescheria una bella seppia ho sempre la tentazione di fare la ricetta più classica di tutte la seppia con i piselli perché è una ricetta molto molto gustosa anche dentro la settimana è semplice da realizzare anzi si potrebbe anche realizzare il giorno prima e riscaldarla il giorno dopo diventa comunque gustosissima perché è una zuppa alla fine quindi si insaporisce ancora di più e poi sono quei piatti che in casa tu ci mangi il pane fa quel sughetto così gustoso e quindi oggi la rifacciamo anche se è una ricetta che sicuramente conoscete tutti e poi è semplicissima si parte chiaramente da una bella seppia il pescivendolo di solito la pulisce inizialmente vela e viscera ma poi diciamo il gran gran parte del lavoro si fa in casa perché va sciacquata bene bene va spellata va eliminata la pelle va staccata la testa eliminato appunto tutto quello che può essere rimasto all'interno della sacca e poi si taglia semplicemente a striscioline se lo fate per obliquo alla fine sarà più bello l'effetto finale e riuscirete a tagliarla anche in modo più fine tagliata la sacca andate a tagliare anche i tentacoli a questo punto abbiamo la seppia pulita pronta per essere cucinata oggi avevo in casa una bella cipolla di tropea ma chiaramente nella ricetta tradizionale va benissimo anche una cipolla bianca normalissima oggi ce la mettiamo di tropea andiamo in pentola sul fuoco con un giro di olio extravergine di oliva facciamo appassire la cipolla questa rossa fa anche prima di quella bianca come ammorbidita ci caliamo i pezzetti di seppia mischiamo bene mischiamo in modo che la seppia senta subito il calore della pentola a questo punto sfumiamo con un goccino di brandy e giriamo in modo che l'alcol evapori completamente inizierà un pochino la seppia a fare un pochino di acqua a questo punto aggiungiamo anche i piselli io sto usando dei piselli surgelati vanno benissimo per questa ricetta perché noi stiamo cuocendo tutto lentamente per parecchio tempo quindi non è assolutamente un problema aver messo i piselli congelati come appunto la cottura è andata avanti una decina di minuti possiamo aggiungere già la passata di pomodoro questa all'incirca e mezza bottiglia poi nella ciotola ho riempito d'acqua in modo da tirare giù bene tutto il pomodoro attaccato alle pareti e quindi anche dell'acqua nella nostra zuppa e naturalmente iniziamo a salare ma lentamente saleremo bene alla fine ora abbiamo tutto in pentola rimane solo di aspettare che sia pronta aggiustiamo un pochino diamo un po di carattere con un po di pepe bianco e poi abbassiamo il fornello e la facciamo sobollire per circa 50 minuti questa è una zuppa che alla fine deve risultare parecchio brodosa se preferite potete anche farla asciugare bene bene con il pomodoro ma questa è una zuppa vi ripeto che ci si mangia tantissimo pane quando si è in casa quindi deve essere sugosa spero che questa ricetta vi sia piaciuta arrivederci alla prossima